Il calcio è un'enorme pagina sulla quale si possono scrivere tante cose, alle volte se ne scrivono di improprie, ma è una grande pagina bianca, sta la buona volontà di tutti noi di scrivere su questa pagina bianca delle cose che valgano la pena di essere scritte. La federazione ha condiviso questo progetto di un gol per l'Africa proprio per il valore che ne deve scaturire, che è quello dell'educazione, l'educazione per i bambini da parte di Unicef, l'educazione alla salute e quindi all'aspetto idrico da parte di Amref. Grazie ai risultati di questa campagna Amref formerà personale sanitario e personale sociale che si occuperà di prevenzione e cure sanitarie. I fondi l'Unicef li utilizzerà per il diritto all'istruzione, lavorerà in 11 paesi per ricostruire le scuole, formare gli insegnanti, in questo modo garantire il diritto all'istruzione a più di 5 milioni di bambini. Senza le conoscenze su come proteggere la salute grazie all'acqua pulita, grazie all'utilizzo delle zanzariere, grazie alle vaccinazioni, la povertà in Africa continuerà ad essere assolutamente violenta e non ci potrà essere un futuro per il continente. È un'occasione molto importante questa per l'Africa, i campionati mondiali di calcio che si sono sempre giocati nei paesi più ricchi può offrire una vetrina importante a tutta la comunità internazionale per parlare dell'Africa in modo diverso. 4-5, 5-0-3, fai un gol per l'Africa. Due partner importanti, la federazione arriva da campione del mondo in Africa, quindi siamo tutti uniti in una squadra proprio per raggiungere l'obiettivo che è quello di raccogliere dei fondi da destinare a questi due progetti. C'è una canzoncina che ne so che si canta durante le partite, non me ne viene in mezzo? Pa, 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 brava, 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 questo me lo ricordo, questo va. Durante i mondiali c'è in giro tanta di quell'emozione nella gente che agganciarsi a questa emozione porta sicuramente in genere dei risultati straordinari. Questa era bella. E lasciandosi travolgere è davvero un attimo riuscire a fare anche una cosa, magari tramite un SMS che porti un beneficio reale a un continente che ne ha bisogno. Guarda che se non mandate l'SMS al 4-5-5-0-3, questi continuano a parlare per tutta la giornata. Quindi mandate l'SMS e l'SMS e qui finisce il live. SMS da 2 euro da cellulare con tutti gli operatori o da rete fissa Telecom Italia fino all'11 luglio.